ciao a tutti ben ritrovati sul nostro canale allora è arrivato il momento di rifare un nuovo investimento immobiliare su recloud utilizzo recloud perché l'ho già provato mi sto trovando bene e quindi continuo a usare questo per ora allora dopo l'ultimo investimento che ho fatto che mi è stato restituito il capitale dopo ero rimasto un po fermo si avevo fatto un altro investimento da 300 e rotti euro su un immobile con investimento minimo di 250 euro io ne ho messi 300 due diciamo i 250 più il guadagno che c'è stato nel mentre quindi ho fatto 300 rotti euro in modo da far girare già anche il capitale insomma ripreso con con i guadagni a sto punto vado a farvi vedere un po quale sarà il prossimo investimento quindi si va semplicemente sulla sezione investi e adesso abbiamo questo immobile che è disponibile un executive con un investimento minimo a 12 mesi dalla durata dell'investimento l'interesse è variabile che può andare da un 8 a un 12 per cento se andiamo nella loro schermata principale del progetto possiamo vedere un po il discorso allora intanto il progetto è a bologna quindi una città studentesca e si pone l'obiettivo di raccolta di un milioncino investimenti raccolti siamo già 484 mila euro teniamo presente che l'investimento l'apertura è stata fatta oggi 21 settembre le 19 in questo momento sono le 19 e 34 quindi ha raccolto 484 mila euro in mezz'ora dal momento se non si chiude prima comunque fra 31 giorni chiudono la raccolta fondi allora diamo un attimo un'occhiata un po le caratteristiche di questa campagna il progetto della società opera loft srl che io in realtà non conosco non so quanto possa essere grande da un rendimento dall 8 per cento in 12 mesi fino a un 12 per cento sempre annuo se si investono almeno 4000 euro cifra che io sicuramente non investirò per due motivi il primo è che non ho 4000 euro sul conto ancora investiti su recroud il secondo è che per investire 4000 euro su un'unica soluzione almeno deve averne 12 13 mila 15 mila e comunque ancora non ho questa questa disponibilità soprattutto per il fatto del 12 per cento perché ci sono state situazioni in cui si poteva prendere meglio con con queste cifre quindi mi sembrava un po un po bassina come come offerta non che sia basse perché per carità 12 per cento e tanta roba però data la circostanza secondo me si poteva far meglio comunque cos'altro dice qua questa equipa pagherà la rata di interesse ogni mese va bene fino alla restituzione diciamo che un termine normale allora la campagna aprirà il 21 settembre 2019 l'obiettivo per un singolo investitore massimo può investire 100 mila euro quindi comunque mettono delle barriere per fare in modo che non ci siano dei pochi investitori ma comunque ci possa essere la possibilità per tanti di noi di poter investire e questo ok perché ti dico ci sono stati dei casi in cui appena aprivano la campagna liquidavano completamente tutto non si riusciva neanche entrare se non vedevi neanche la possibilità di fare investi investi ora quindi va bene che mettano questa tipologia di blocchi il contratto di finanziamento sarà si sarà disponibile dal momento della sottoscrizione dell'investimento va bene questi che sono un po di dettagli diciamo quelli di poco conto il finanziamento prevede la restituzione di 11 rate contenenti gli interessi al termine dei 12 mesi di durata del progetto un'ultima rata contenente capitali e interessi va bene l'interesse di mora previsto in caso di ritardo dei pagamenti e del 2 per cento annuo quindi rispetto al capitale che c'è all'interesse che viene messo il 2 per cento sicuramente molto basso quindi si preso si spera in realtà che venga dato subito anziché puntare a questo 2 per cento che in realtà fa perdere un sacco di soldi di interesse rispetto all'investimento nuovo fresco questa è una cosa bruttissima il contratto di prestito non è coperto da assicurazione quindi è uno dei motivi per cui bisogna puntare il meno possibile il proponente non ha concesso alcuna garanzia agli investitori altro punto da tenere in considerazione alla scadenza del contratto indicato del progetto immobiliare presentato riceverai direttamente nel tuo wallet i capitali investiti e il rendimento generato al netto della ritenuta del 26 per cento a titolo di acconto sugli interessi se persona fisica residente in italia quindi e per il discorso che ti fanno direttamente lo scarico delle del 26 per cento così non devi presentare al commercialista nulla quindi se già posto fanno già la ritenuta d'acconto al netto ricevuto si potrà poi la dichiarazione di eredite persone fisiche residenti in italia verrà tassato in base al proprio scaglione IRPEF vabbè cosa che chiaramente comunque viene allora se non erro adesso è una cosa che ancora non ho visto però siccome loro fanno già la ritenuta d'acconto in realtà quando si fa il modello pre compilato già compaiono tutti quanti questi questi soldi che vengono investiti quindi comunque allora qui c'è il discorso per l'appunto trattativa personalizzata perché a seconda di quanto può investire viene aumentato diminuito il il tasso di interesse totale infatti qui c'è un semplice una semplice tabella che dice 500 euro 8 per cento 1000 euro 9 per cento 2000 11 per cento 4 mila 12 per cento punti di forza del progetto rating patrigest vabbè comunque danno dei gran rating super belli infatti sì sì sono non ti da nessuna garanzia però sono molto bravi ha già presentato sette progetti sui regali di cui due conclusi istituzioni dei tempi previsti dai comunque sicuramente è una di quelle cose che va bene probabilmente non mettono un discorso dell'assicurazione delle garanzie perché aumenterebbe di brutto l'investimento quindi darebbero dei rendimenti più bassi il progetto prevede una palazzina di sette piani quindi non so se per un discorso familiare o studentesco posti auto cantine mediante le riqualificazioni di un vecchio magazzino quindi non è una struttura nuova viene buttato su tutto ricostruito da quello che sarà attualmente in disuso bene per il quale previsto un cambio di destinazione d'uso anche per forza perché prima scopo industriale dopo diventa abitativo e quindi da laboratorio a residenziale va bene le unità verranno successivamente vendute va bene ok totale saranno realizzate 12 appartamenti di diversi tagli dal bilocale al quadrilocale quindi faranno un mix letale di di proposte in modo da prendere sicuramente una tipologia di utenti più ampia possibile quindi dal singolo alla coppia fino ad arrivare alla famiglia che il quadrilocale già sicuramente lo potrebbe sfruttare la zona e bologna come detto l'intervento è appetibile per un gran pubblico di potenziale acquerenza di investitori va bene diciamo che abbiamo letto un po la parte iniziale investi ora ho 1250 euro disponibili quindi facciamo l'8 per cento al 12 500 euro io metterò il minimo 500 euro inizia trattativa robina automatico che mi dice che il cinquecento euro mi è andato l'8 per cento annuo posso modificare l'importo va bene non lo modifico confermo ho letto le milioni di condizioni eccetera confermo l'investimento confermo tutti questi pop up me li farà vedere o cosa l'investimento è stato effettuato con successo va bene benissimo quindi adesso ho anche questo investimento in pancia no meglio ancora no perché deve ancora uscire ah ecco quello dell'altra volta 302 euro e 37 così siamo un totale di investimenti di 2552 euro in realtà parliamoci chiaro io non è che ho 2500 euro investiti lui fa il conteggio di tutti gli investimenti totali che hai fatto perché io in realtà devo avere meno sicuramente o meno di questa cifra ho ancora 750 euro disponibili perché avevo aggiunto 1000 euro dall'ultima volta così portando a 2750 euro più 2800 euro totali circa poco più poco meno e quelli sono i capitali che ho investito finora quindi non altri 750 disponibili quindi spero di fare altri tre due barra tre investimenti perché se ne capita un altro da 500 comunque posso fare solo una 250 il minimo è 250 preferirei farne tre anziché due però insomma vediamo un po le proposte che vengono fuori e va bene dai costrucchio un po come come faccio insomma quando vado a fare questa tipologia di investimenti niente di particolare insomma però mi avevo piacere a far vedere o cacchio ma qui c'è voi io c'ho il fazione davanti non so se si vedeva ai 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 vabbè ciao a tutti